Con cautela Singer, via la macchina. Chiusura. C'è lotta per il comando con a largo Sampio che impegna Siria e lungo i birilli Sharapopo-Griff. Tre cavalli in lotta. Completamento del lancio, rientrano bene i rientranti, si fa per dire 13 e 6, e il pigna va al comando, ma punta in avanti la Siria. Completamento della piegata, e si va al completamento del quarto, sarà un classico freeway per il francesino, 29 e 9, e la Siria leader. Problemi per Smash Slide, numero 7, che rimane attardato. Si va dopo 600, 600 iniziali passanti nell'ordine del 44 e 3. Buona l'andatura, in terza posizione Sampio. Cavalli che affrontano la penultima curva, con la Ganymede di Mario Minopoli Junior in chiaro vantaggio. Mezzo miglio, in un minuto e qualche spicciolino. Si va di fronte, non avvengono variazioni, l'andatura è brillante. La Ganymede, stappata un po' prima, va a timbrare il chilometro nell'ordine dell'1,15 e 8. Accorciano le distanze di Tardatari, e viene via il favorito Singer, e il ronco di Di Nardo punta in avanti. Mentre Sharapov Grif tenta di anticipare l'avversario. 15,9, 1,31 e mezzo, tre quarti di miglio. Una marcia in più per l'altro ronco. Però viene via cattivo Smash Slide, che ha recuperato. Retta d'arrivo, i due fratellini terribili in pole position. Ma Morgan a lunga, Morgan in vantaggio. Poi Tony, Tony Young. Il palo si avvicina, si inizia all'insegna dell'emplane in famiglia. Morgan, Tony Young, Di Nardo, accoppiata, 3-7. E poi il quattro del francesino, e cioè Sire del ronco. 2-2, 1-16-3. Bella vittoria di questo stimato lobby du. Perfetto, come al solito, il training di Gaetano Perfetto. I colori di Santo Marrazzo. Ma in salchi, signori, è Morgan Gaetano Di Nardo. 2-38 in chiusura. Fa un numero questo Yankee Slide di Antonio Di Nardo. Perde tanti metri ed è ottimo secondo. Non male per il terzo, la Siria. Probabile ufficio...